ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su terra randoma un gioco sviluppato dai denis che costa 12 euro e 49 su steam andremo a valutare se vale effettivamente questo prezzo è un gioco che ho notato essere sviluppato e aggiornato spessissimo e è un gioco di ruolo giocabile completamente col mouse con alcuni comandi anche utilizzabili da tastiera come l'apertura del backpack e roba del genere ed è un gioco a turni non è in italiano ma credo non sia così indispensabile allora a questo punto noi possiamo scegliere un background se fare il saggio se fare facciamo non lo so vediamo un attimo perché ci sono un sacco di cose che poi si possono sbloccare all'interno del gioco il principe esiliato l'arma a una mano combattimento a distanza a speech craft che non so cosa sia dialogo forse vabbè armatura leggera e coraggio si dai ci dà le talent stone anche se il tiff ha l'invisibilità e la lama avvelenata facciamo il poison vedete che cambia sembra quasi un gioco da tavolo come un descent perché abbiamo forza 6 10 di destrezza 7 di intelligenza era un po più equilibrato il principe però non mi dispiace neanche questa cosa qua sotto il livello di difficoltà la permade e qua abbiamo il segno una sorta di segno zodiacale dove possiamo avere dei bonus item e delle degli skill point vediamo un attimo facciamo questo il lizard che ci da swiftness quindi dovrebbe essere tipo un'agilità insomma e l'anello in rame della destrezza come oggetto iniziale quindi siamo del segno del lizard quindi della lucertola del coccodrino no della lucertola e siamo un ladro chiamato indie iniziamo leggende una storia di leggenda una storia di un antico errore che si è svegliato ogni diecimila anni e divora il mondo prima di tornare nuovamente a dormire solo una persona in grado può capire quando il tempo è vicino ma c'è una speranza una tavola antica che mostra il il nido di questo oro e dormiente la tavola è divisa in cinque pezzi e nascosto in cinque posti diversi cinque lord della reame ognuno conosce uno dei pezzi il luogo dove si trova non credono non hanno fiducia negli altri e non avranno fiducia in te devi guadagnare la loro fiducia e raccogliere tutti e cinque i pezzi di questa tavola carona che dell'antico alchimista dell'inverno del 1599 iniziamo il gioco è sviluppato in unity proviamolo terra random è sviluppato in un mondo generato proceduralmente pieno di curiosità e avventure prendi la quest alla taverna per la reputazione e soldi con più reputazione avrai più premi diciamo dalle quest dai lord puoi accampati per riposare e mangiare i punti esclamativi all'incima indicano il livello di pericolo di ogni casella non dimenticare di usare le tue pietre del talento durante il combattimento garantiscono a te speciali poteri devi no tu hai due ds con cui cominci e sono nell'action bar in basso infatti li vediamo qui quindi abbiamo l'invisibilità che ci costa 20 di stamina diventiamo invisibili per cinque turni 100 per cento di colpire a distanza e più 40 danno critico a distanza no più 40 danno critico e basta qua invece abbiamo il poison blade ci dà al cento per cento di colpire da 3 a 5 danni da veleno e avvelena il bersaglio per due o quattro turni dipende a random un tiro di dadi insomma puoi acquistare più pietre del talento alla gilda degli avventurieri controlla il journal per vedere quanto vicino sei a scoprire gli antichi segreti che nascondono insomma siamo in nave e adesso arriviamo a prendere la nave in automatico mamma mia no ci costa 10 gold all'ora abbiamo noleggiato una nave per niente voglio vedere se non non ci siamo è bellissimo perché c'è questa a passano le ore vedete bello figo allora misterioso incontro un golem gigante collassato trovi un golem collassato è grande e sembra che sia qui dall'inizio dei tempi vuoi investigare ma siamo qui per scoprire il gioco investighiamo e quindi si investica e ci troviamo due cose allora siamo immuni al fuoco allora lui è immune al fuoco al sanguinamento al veleno è 12 per cento di stunnarci però io se provassi subito a diventare invisibile per 5 turni lui mi vede gli faccio il critico torno visibile riprovo nuovamente vediamo un po mannaggia mi schiva voglio tornare invisibile in sette turni mi ha mancato perfetto qua abbiamo la stamina qua abbiamo una sorta di mana e qua abbiamo una free action in tre turni ok lo colpisco a distanza perché ho anche la possibilità di colpire a distanza merdas ok l'abbiamo ucciso adesso parliamo anche con lui mi avvicino lui sta lontana e devo fare attenzione perché ok ho avuto un'azione in più un'azione libera perché ce ne viene data una ogni tot turni ok andiamo a lutare poi vediamo questo golem ok abbiamo raccolto questa pietra di sabbia che può essere venduta alla torre dell'alchimista e la limestone stessa cosa qua non abbiamo nulla però lì c'è qualcosa che possiamo andare a scavare abbiamo l'or vein di silver che scaviamo agilmente consumando un po di stamina però raccogliamo e qua vedete che bellissimo perché siamo contestualizzati in questo tile preciso dove il tempo passa al ritmo di due minuti alla volta e non di un'ora ok raccogliamo silver ore se primo c apro il personaggio diciamo la scheda del personaggio con tutte le nostre abilità la forza la destra dell'intelligenza la fama la possibilità di ricercare praticamente influenza la qualità dei materiali che troviamo nell'interno dei forzieri il carico la velocità la vita la stamina il cibo il cibo non è il mana la difesa che abbiamo la difesa dagli elementi quindi questo è racchiuso tutto in un unico parametro difesa dalla mente perché con un aggiornamento e lo stanno portando avanti questo concetto ci sarà la sanità mentale o c'è già adesso sarà da vedere e qua esistenza a danni da natura tipo il veleno e le malattie speechcraft è praticamente vedete che abbiamo il livello quindi la possibilità di aumentarlo al passaggio di livello praticamente ad esempio speechcraft siamo livello 0 se aumentiamo a 1 abbiamo il 4% di chance in più di vincere in speechcraft e quindi guadagnare 5% di più di sconto diciamo ai negozi e così via anche le altre quindi siamo livello 3 adesso abbiamo più 1.5 melee attack quindi attacco con la spada e più 5% di critico se arriviamo a 5% abbiamo più 1 danno con l'arma e così via meditazione abbiamo qui penso sia una cosa più da mago e la wildness è evitare incontri diciamo improvvisi il backpack è questo quindi abbiamo l'anello della destrezza lo possiamo equipaggiare credo sì perché ci dà più destrezza quindi tecnicamente noi abbiamo 10% se mettiamo l'anello dovrebbe aumentare infatti siamo a 11 e c'è aumentata la velocità dell'1.8% circa abbiamo le armi a distanza abbiamo il cibo che possiamo mangiare la mappa e in questo caso dobbiamo aggiungere l'uscita tra l'altro è mamma mia cioè io vi dico la verità non l'ho visto giocare però è un po' scettico ma devo dire che è veramente figo allora abbiamo la città scramblestead due stelline non so cosa sia comunque andiamo ok qua abbiamo la taverna allora a causa delle strade non sicure ci sono solo alcune merci disponibili al negozio e sono più costose del 20 per cento dei pezzi normali allo shop possiamo comprare armi armature e vale varie pozioni cibo io vorrei comprare del cibo anzi sì dai compro una mela grazie allora voglio andare al town's lord questo è il lord nedios de fanni il divertente ha sempre bisogno di eroi coraggiosi come te ma la tua reputazione è abbastanza bassa qui torna quando la tua reputazione sarà del 25 per cento e potrai avere un incarico speciale per te abbiamo il 10 per cento andiamo in taverna e vediamo se c'è qualche quest sì c'è tavern pattern allora benvenuto viaggiatore sembra che io abbia una persona incapace in sagoma ho bisogno di aiuto per una questione qual è il lavoro? ho un io sono un umile collezionatore di antichi artefatti ho sentito che c'è un interessante coltello apri lettere in argento nelle camere del giudice velenoso portami l'artefatto e ti ricompenserò il tuo tempo quale sarà il mio prezzo? 21 di reputazione 390 gold e 10 settiman prosperity abbiamo ok le strade non sicure della città sono una cosa che va a tempo e dura 10 giorni posso usare speechcraft per aumentare il compenso ho fallito va bene sono tutto tuo ho segnato il dungeon sulla tua mappa starò aspettando per te ok andiamo dov'è il dungeon? perdone adesso qua c'è il tasto q che non so cosa sia ah la questa la questa col journal possiamo andare a vederla credo ah le principesse recuperate i tesori della ah e questo invece sono i relics ma questi sono i pezzi cinque pezzi che dobbiamo trovare per finire il gioco e questi sono i servi del divoratore del mondo che abbiamo sconfitto zero ancora sono sei eh no io vorrei vedere la mappa l'alchimist tower è là dove poter vendere le cose non è enorme il mondo però chamber ah dobbiamo andare a sud siamo qui andiamo chamber ok proviamoci eccolo qui era subito qui è comparso sulla mappa eh io mangerei qualcosina però perchè ne ho bisogno mangio questo vediamo se posso ok e non ho pozioni di cura me le tengo buone posso trascinarla qui? no devo andare per forza a aprire l'inventario beh posso accamparmi però riposa eh 8 ore col 58% di survival e ho ripristinato la vita ok perfetto andiamo questo posto sembra per ehm pericoloso ti chiedi se hai abbastanza pozioni investiga ok andiamo scusate ma la mappa oddio non posso colpirlo però voglio temporeggiare lui continua a mancarmi ok un rack un astrello di armi e trovo un rack luta tutto voglio dare un'occhiata al danno 2 danno 2 wooden shorbo ah uguale è lo stesso identico va bene dai ho lootato andiamo avanti qua ci sono delle scale che mi sa che siamo arrivati da qui no? se lasci il dungeon senza finire lo perderai un punto di reputazione no way carry on the quest ok ok è fighissimo sembra di giocare un gioco da tavolo ma più figo allora c'è un pozzo d'acqua pieno ti cura 25% di mostro e 25% curato ok grazie continuiamo qua continua anche da questa uh ci saranno delle trapole 100% di aprile uh figo ho trovato cintura difesa 1 resistenza mentale 6 qua abbiamo trovato difesa 1 soldi e pozione della velocità io direi che andiamo subito a equipaggiare questo gioco qui da live ma se no no way cioè proprio ok eh amuleto stamina più 5 difesa più 2 tutte le resistenze più 4 e un wooden club allora vediamo un po' mettiamo questo l'amulet non compare ovviamente però mamma mia fossero tutti così i giochi io avevo iniziato il canale con giochi di questo tipo ai tempi ma graficamente erano molto più scarsi eh liden wood e frecce questo è grande di squalo e un uovo di lucertola eh difesa 2 vita più 4 e una spada ehm arrugginita voglio dare un'occhiata perchè la spada arrugginita fa 4 di danno e io ho un coltello eh ma non lo so sarà in critical chance 5 vabbè dai cambiamola tanto vediamo poi il cappello cioè me lo metto sto aumentando la mia difesa difesa 1 il cappello difesa 2 tutte le resistenze più 1 sì no sono pienamente d'accordo che la veste allora questo è difesa 4 questo è difesa 2 vita più 4 no non mi interessa vediamo un po' la mappa se stiamo andando bene siamo qua eh direi che c'è ancora un paio di tile qua vediamo non trovo trappole limone uovo uovo deer dock un po' non vedo tutti questi pericoli però abbiamo un bel po' di cibo uh è fuori dalla range eh dai ok continua a mancare no l'ho ucciso ottimo molto bene continuiamo di qua e finiamo di esplorare oh cos'è quello? è un coral spider un ragno che sembra arrivare da alien direttamente ok abbiamo la pera verde e il lime prendo anche quelli oh arrivano tutti adesso fortuna che avevo l'azione gratuita e il ciapa no voglio usare l'invisibilità vedete che lui mi vede comunque però li faccio critico ok grazie amico la un barattolo di snive di grasso posso venderlo all'alchimista quindi devo andare anche alla torre dell'alchimista uh quanti? ok poi una pozza non ce la leva nessuno continuiamo a mancare entrambi voglio fare questo poison blade ho finito la stamina mannaggia poteva essere un problema ehm spada lunga e arrugginita che metto subito addosso quanto sono pieno? eh sono quasi pieno nel tutto quindi dobbiamo andarcene ehm si mi ha buttato a terra la spada no vediamo un po' eh io prendo tutto ma secondo me sono pieno tra poco passeremo di livello ok cos'è questo? la statua del saggio però prima c'è un altro tizio da far fuori ah infatti mi stavo per chiedere ma le frecce sono limitate? ehm evidentemente si vedete che mi muovo così e lo attacco lo uccido istantaneamente ah sono affaticato ok mi avevo affaticato statua del saggio c'è un'iscrizione sul piedistallo e un piccolo buco eh dove buttarci monete in memoria del grande saggio Sarok la testa di ferro dona 100 monete e sarai benedetto dalla speranza del saggio per diversi giorni più 4 intelligenza più 5 mind resist no non mi interessa perché non sono un mago io sono carico ho paura di essere troppo pieno no non è vero eh qua mi sembra siamo arrivati quasi alla fine perché oh dio no però però mi aspetto la fine a breve del combattimento devo curarmi assolutamente devo diventare sto sanguinando come un poveretto divento invisibile no non posso oh merda pozione level up qua ci sono uova di ragno tutto si vende tutto si vende tutto al eh beh tanto sei lì quindi usi l'attuazione di movimento perfetto un libro che può essere venduto anche quello siamo pieni no 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 non siamo messi proprio malissimo devo dire la verità però io sono ancora ben lontano dalla risoluzione di questo dungeon quindi dobbiamo recuperare non mi ricordo più qual era la quest vediamo un po' il coltello il coltello diciamo quello per aprire la lettera il letter opener comunque ben due porte credo che qui dentro si possa celare un bel niente vi posso già dire che potrebbe anche valere questi soldi calcolando che in early access calcolando che non è assolutamente proibitivo giocarlo in inglese ed è comprensibilissimo calcolando anche che si vede lontano un chilometro l'immensa passione nei giochi da tavole nei giochi di ruolo e soprattutto come ragionerei anch'io di cercare di sviluppare un gioco non troppo complesso a livello di grafica ma grazie a questo poterci mettere mille features diverse abbiamo un iron ring questo che mi da p20 melee attack si è molto interessante perché l'anello lo mettiamo subito perché voglio avere più stamina ancora quello secondo me potrebbe essere il finale io mi divento invisibile e poi gli tiro un bel criticozzo sto finendo la stamina quindi mi sa che me ne fuggo intanto recupero un po' di stamina posso lutare? è vuoto! eh ma lui fugge è un cultista lanciatore di rappioni e finirai prima il percorso che sei arrivato ok cintura difesa 2 prendo tutto pozione di resistenza elementale c'era un bel niente un bel niente ha già lutato tutto lui no giorno 3 vedete che ogni turno sono 2 minuti qua ci siamo già stati si quindi torniamo di là e c'erano due forzieri ma non ha uh vieni qua marano merdas ok ok ma dai quello è la e eeeh b cura dai cazzarola ma non puoi eh eh no mi sa che ci lascio le penne indy indy è stato battuto dall'iniziatore cultista alla camera del Venomous Judge si è avventurato per 3 giorni e sarà ricordato come l'eroe senza nome con una fama di 10 c'è un rogue like alla fine abbiamo scoperto anche questa cosa allora terra random è un giocone veramente un vero indie ringrazio ancora il developer Dennis K per avermi permesso di portare questo titolo 12 e 49 assolutamente meritati calcolando che ancora in pieno sviluppo ci sono più di 100 nemici si possono andare ad acquistare diverse abilità in più e ci sono numerose classi con cui iniziare quindi gioco dal mio parere assolutamente consigliato ora attendo anche il vostro parere un commento qua sotto e alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao